L'iniziativa La cicca che premia è partita domenica 14 luglio nel comune di Sapri. Premi e vantaggi infatti a chi durante il periodo estivo riuscirà a riempire una bottiglietta di plastica da mezzo litro con cicche di sigarette. E' questa la lodevole iniziativa che a partire da domenica 14 luglio si svolgerà nella città della spigolatrice intitolata La cicca che premia e ha lo scopo di sensibilizzare l'amore per il bene pubblico nell'ottica della salvaguardia dell'ambiente. A realizzarla è stata la Proloco di Sapri in sinergia con l'associazione dei commercianti sapresi, il comune, legambiente e campania. Una volta riempita la bottiglia basterà consegnarla presso l'infopoint della Proloco ubicato sul lungomare Italia nei pressi della zona spettacolo. Dopodiché la persona avrà la possibilità di pescare e vincere tantissimi premi caratterizzati da vantaggi e scontistiche presso le attività commerciali. Inoltre per facilitare la raccolta saranno distribuiti presso il box Proloco guanti monouso è un chiaro messaggio di civiltà e rispetto per il mare e la spiaggia di tutti che si accentua con il coinvolgimento delle attività commerciali associate Unione Commercianti Sapresi con più di 250 premi messi a disposizione, afferma Marianna Petrizzo, presidente dell'associazione Unione Commercianti Sapresi. Invece Giuseppe Avaiano, presidente della Proloco, sottolinea l'iniziativa non è nuova ma l'abbiamo fatta nostra e cercheremo di portarla avanti anche per i prossimi anni con la speranza di sensibilizzare sia i residenti che gli ospiti che verranno in questo periodo estivo nella nostra cittadina. Le cicche di sigaretta il più delle volte vengono gettate a terra o ancora peggio sulla spiaggia con gravi effetti inquinanti sull'ambiente che speriamo nel nostro piccolo di arginare o in ogni caso limitare con la nostra iniziativa.